Oggi, 26 settembre 2015, mi sono recato al santuario Madonna dell'Alto, quota 1800 metri, uno degli ultimi giorni del mio giro della Sicilia in bicicletta. Io ho avuto la grandissima fortuna di incontrare l'eremita Biagio Conte. È stato 15 giorni in solitudine in questo eremo, ha, come dice lui, ricaricato le energie e quindi sono felici di poter condividere con voi un frammento di questo incontro. Rimangono tutti così, stile, ma... Ecco, li preparo quando è... perché quando ti vedono, come ci va a spiegare tu? Uno che ti rivedono come nelle cose del passato, anche qui, guardate che prezioso, questi sono stati gli eremiti, quasi nel 1940, quasi 1945, qui sono stati, ecco gli eremiti. E poi ho scoperto anche Guglielmo Gnoffo, eremita, di polizia generosa, qualcosa di prezioso, che lo seguo, sto seguendo le sue orme già da diversi anni, sono stato all'eremo di San Felice, dove lui ha realizzato l'eremo e lui, devutissimo a Maria, dedicato a Maria, a Castelbuono. Sì. E ora ho scoperto, avevo sentito, che anche lui era stato qui, aveva costruito l'eremo. Ecco, questa è una cosa grande, guarda, io seguo questa figura molto bella. Ecco, rivedere, rivivere, ecco, riscoprire questi segni. Io credo che la storia oggi, ecco, e devono camminare insieme. Non è vero che la storia è passata, passata. Prendiamo, cogliamo i momenti della storia bella. Io credo che ci sono tanti segni, molto profondi. Non prendiamo solo le cose negative, solo ogni volta abbiamo sta cosa di pigliare le cose negative. Ecco, ricordare le cose negative e ignoriamo le cose belle della storia. Accogliamo, prendiamo, anzi, accogliamo nel nostro cuore questi segni grandi della storia. Io credo che Guglielmo Gnoffo è una figura preziosa, bella, bella, che incoraggerebbe anche tanti giovani. E lui, con altri, ecco, suoi discepoli, costruì cinque eremi, cinque eremi, tutti in zona, in quella zona, fino ad arrivare vicino al monte San Calogero, fino al monte San Calogero, dove l'eremo di San Felice, tra Caccamo e la diga Rosa Marina. Sì. E lì al monte, a Pizzocane, Pizzocane. Io ho vissuto diversi ritiri proprio lì. Da quando allora mi ammalai, con il problema alla schiena, io andavo nelle grotte. Il mio punto di riferimento, quando stacco la spina, sì, io ho il servizio, ecco, con il prossimo, cioè con i poveri, mi dedico a loro, però quando sento di staccare la spina, ho bisogno, necessito anche di questo distacco, un attimino, perché presi dai ritmi, da questa società, dall'impegno, al servizio, all'emergenza continua, ecco che mi carico. Sono tre grotte a cuore a me, e che da quando poi mi ammalai allora alla schiena, in obbedienza, non potevo andare nelle grotte. La chiesa mi chiese, ecco, allora il cardinale ci fa del viaggio, scegliti magari gli eremi, ecco, fai in questi luoghi, ma non nella grotta, come fai a curarti così? E allora ecco che lasciai le grotte, perché una prima, la prima grotta è proprio a Monte Grifone, di fronte alla città di Palermo. Di fronte alla città di Palermo. Lì ho vissuto per otto anni, ho vissuto, ecco, durante l'anno, anche due ritiri all'anno, mi portavano a staccarmi da tutto. Poi lì mi venivano a trovare, e trovai una più all'interno, in zona delle zone di Shimin. E quando fa questi ritiri, quanti giorni sta, ridirò, spirituale? Allora, guardate, io rimanevo 28-30 giorni. In solitudine o con altre cose? Un mese, un mese. Solo, 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 solo. E forte penitenza. E mi ricaricavo grandemente. Guardate, quando tornavo, sì, avevo un po' creato problemi con lo stomaco, i primi periodi, perché dovevo riabituare lo stomaco, però poi ecco, ne avevo un beneficio interiore. E poi mi vennero a trovare pure, dopo tre anni, e fui nella grotta lì, nelle zone di Sherecimina, e poi me ne andai più interno, le zone di Ficuzza. Queste furono, però, uno dei cittadini della forestale mi indicarono proprio una grotta che lì era irraggiungibile, cosiddetta irraggiungibile, tranne quelli che sono pratici, che lì sono alfinisti. E lì ho vissuto altri tre anni. Poi mi ammalai la schiena e optai per gli eremi. E da allora che faccio diverse esperienze, ecco, nell'eremo di San Felice, sono stato anche a Montecervi, sono stato anche a Santa Rosalia, nella Celletta, e degli Agostiniani, alla Rocca, pure, ho vissuto anche queste esperienze molto belle. E ora vivo questa, sto vivendo per la prima volta, anche se conoscevo il santuario, che non mai avevo vissuto un ritiro. Lo desideravo, proprio qui alla Madonna dell'Alto, e devo dire che da quando ho avuto la grazia ricevuta alla Madonna dell'Urde, io al bagno alla vasca, ora ricambio a lei, che ero venuto qui con la sedia a rotelle, mi ci portarono il comitato della Madonna dell'Alto, mi portarono fin qua, col fuoristrada, ecco, non mi era possibile arrivare. Quest'anno mi sono salito da solo, un po' di quest'anno, con la croce spalla, ah, la croce, aspetta che la vado a prendere. Eccola qua, la croce della pace e della speranza, che ha attraversato tutta la Sicilia, avevo a cuore venire, il comitato, veramente, mi hanno accolto con padre Santino, la comunità, e mi hanno dato il permesso. E ora sono qui da due settimane, e sto proprio oggi concludendo il ritiro, e mi sono caricato veramente tanto, ritemprato. E noi con te siamo saliti e con te stiamo scendendo. Ecco, il Signore ci aveva fatto incontrarmi e volevate dare il passaggio, ma vi ho detto una promessa, di portarla a piedi fino alla Madonnina dell'Alto, che lei allora, quando con la sedia a rotelle, mi disse, continuo a sperare, continuo a sperare, mi disse qualche cosa, voleva dire qualcosa, e difatti ora, dopo quasi quattro anni, io sono salito, ricambiando, e ringraziando Maria, che veramente, proprio lei all'Urde, al Bagna Lavasca, mi ha fatto la grazia. E ora sono qua, per condividere molto bene, anche per mettere nelle sue mani, anche il cammino, e anche le regole, che sto già presentando, già avevo presentato una prima stesura qua, e ora gli ho riportato anche, simbolicamente, ho messo nelle sue mani, anche questo segno, di questa speranza, perché non sono più solo, ecco qui, con fratelli, con sorelle, ecco, sacerdoti, c'è un segno, facciamo fare al buon Dio, facciamo fare al buon Dio, veramente, grazie, grazie. L'hai incontrato di notte, vero? Di notte stava camminando di notte, in piena 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 notte, io senti arrivare un rumore, una macchina, e loro dicevano, ma chi sarà questo? Camminava di notte, con la croce, a 2.000 metri d'altezza, e loro hanno detto, ma come fa questo? Ora questo è col buio totale, e allora io ho detto, no, non vi preoccupate, e loro dice, mette un passaggio, no, ho una promessa, devo arrivare al santuario, allora ci vediamo su, e poi è arrivato anche, il comitato che mi ha aperto la porta, ecco mi ha aperto la porta, ed è che hai fatto 15 giorni di ritiro, qua in questo santuario, qua ti rigenera, qua sei fuori dal mondo, ma sei nel mondo, attenzione, ma vedi il mondo, brava, perché qui è, dove ti giri, veramente è un luogo meraviglioso, un luogo di Dio, un luogo della fede, un luogo dove, ecco, bene ha preparato il buon Dio, per, ecco, riposare Maria qua, ecco, perché prega per tutti, io credo, e noi tutti dobbiamo, veramente pregare per questo mondo, perché ha bisogno, in questo momento difficile, difficile, ho messo tutte le preghiere, per tutte le intenzioni, che in tutti i paesi, le città della Sicilia, che ho attraversato, tante preghiere mi hanno chiesto, intenzioni, e anche, i tanti ammalati, che ho incontrato, disabili, e, anche, sono stato nei carceri, negli ospedali, ho pregato per tutte, anche disoccupati, tante famiglie in difficoltà, non solo, chi soffre nel corpo, chi nella mente, chi nello spirito, anche tanti scoraggiati, e a tutti dicevo, coraggio, coraggio, come il Signore, ci dà la forza, e gli ho detto, questa è la croce, a tutti, la presentavo, come la croce, della pace, della speranza, e lei vuole, continuare a camminare, non è finisce qua, vuole continuare a camminare, ecco, e quindi continuare il viaggio, portandosi dietro, no, adesso, mi devo preparare, per un lungo viaggio, non posso, non posso anticipare, ecco, non posso anticipare, ti seguiremo, non posso anticipare, grazie, grazie, anch'io, lo farò, grandemente, fortemente, preziosamente, perché mi avete colpito, siete stati di solidarietà, ecco, mi avete dato anche coraggio, io dico coraggio agli altri, ma donando, si riceve, ecco che questo coraggio, è reciproco, ecco, ritorna, tu donando, ecco che ricevi pure, questo nella società c'è bisogno, donare, e si riceve, perché noi siamo fatti perdonare, quello che non abbiamo capito, siamo fatti perdonare noi, e questa è la cosa che non, ancora, com'è che l'uomo ancora, è duro, sono passati quattro mila anni, e forse poco, ecco, come mai, che succede l'uomo, donando a Dio, ci ha dato la vita, noi siamo, dono di Dio, preziosi doni di Dio, allora, essendo che nel cuore, e noi, noi dobbiamo, dobbiamo donarci, noi dobbiamo aiutare, siamo fatti per aiutare, quando non aiutiamo, siamo giusti, quando non aiutiamo, siamo disorientati, siamo afflitti, ecco, siamo presi, schiacciati dai problemi, dalle cose, gli stessi problemi che creiamo noi, poi, gli stessi problemi che creiamo noi, noi creiamo problemi, ecco, invece dovremmo essere, ecco, costruttori di pace, dovremmo edificare, e invece demolemo, ma per chi, ma che cosa stiamo combinando, noi dobbiamo, ecco, il giudizio, demolisce, ma invece, noi dobbiamo edificare, ecco, che io credo che l'aiuto, e il donarsi, è prezioso, si ripete la storia, e credo che oggi, ancora più di prima, cosa ci vuole per capirlo, quali studi, quanti studi, quante, con te, ecco, tutto rispetto, da scienza, filosofia, psicologia, arte, preziosi, un bagaglio prezioso, riempirsi di tutto questo, ma, se non fai entrare, qualcosa di prezioso, che viene dall'alto, come fai a colorare, e a riscaldare tutto questo, che tu ti sei, ecco, riempito, ma se non si colora, no, sei freddo, sei freddo, sei freddo, sei triste, hai perso il sorriso, con tutto che sei pieno di, del sapere, hai perso il sorriso, e perdere il sorriso è triste, e allora, portiamo il sorriso, vi raccomando, diamo il sorriso a tutti, anche quando ce la provo, vi raccomando, e questo sorriso, sicuramente, lo riceverai anche tu, hai visto? Tu, li hai ricambiato, dai, grandemente, vi abbraccio, ci vediamo, vado, sto camorroso sulle mani, tu penseremo, grazie, guarda, è stato un segno, guardi, per fotografare le stelle, e veniste facciamare, una strana stella, una strana stella, veramente, questo è un segno, credo che è un segno di Dio, ecco, perché Dio ha fatto anche delle luci, non solo dall'alto, lui è luce, lui fa splendere le luci, ma anche nella terra, ci sono tante luci, scopriamole. Surgendiamole. Surgendiamole. Surgendiam. Surgendiamole. Surgendiamole. Grazie a tutti.